buongiorno buongiorno a tutti buon martedì a tutti e buona settimana a tutti allora ragazzi che parliamo oggi di che parliamo parliamo di san plorio juventus parliamo di san plorio juventus allora allora ennesimo schifo ennesimo schifo io io veramente non riesco più a trovare le parole io perché tanto guarda se io prendo i video dell'anno scorso i video di tre anni fa i video di cinque anni fa e ve le riporto oggi evito di perdere tempo di incazzarmi però non si può perché uno sperano che man mano si va avanti le cose possono pure cambiare possono migliorare un attimino sul piano tecnico sul piano tattico sul su quello che un allenatore può dare la squadra lo stesso allenatore può dare una squadra invece siamo a ripetere sempre e solamente le solite cose una squadra che ne ha già un filo di logica una squadra che non ha un minimo di gioco una squadra che non ha un filo d'anima una squadra che non c'ha un cazzo è capitanata questa squadra da chi da massimiliano allegri questo se ne deve andare questo se io ieri vi giuro che se ero il presidente della juve io questo qua fra il primo e il secondo tempo lo esoneravo lo esoneravo è inutile che voi adesso la prossima partita questo vincerà perché è normale mica le può perdere tutte no però e dovete dire dovete rompere il cazzo chiedete scusa dalle egri adesso salite sul carro dell'immortacci vostra non mi dovete più rompere il cazzo d'ora in avanti chi mi viene a rompere il cazzo viene bannato va bene questo è un incompetente tu hai vinto la partita col sassuolo hai giocato i primi 25 minuti uguale a ieri uguale poi un certo signor signor con la s super maiuscola di maria no decide che bisogna giocare a calcio accende lo stadio va bene perché da solo accende lo stadio disegna calcio e tu vai a vincere la partita e a niente il il sassuolo ma se no facevi la stessa partita la juventus faceva la stessa partita questa squadra senza di maria non ha un anima te mi dici allora perché di maria è forte a lì perché il singolo che ti può risolvere la partita quando giochi contro nessuno ma una squadra che non ha un filo di gioco un minimo un minimo di di tattica in campo è una cosa vergognosa allora lasciamo stare di maria che non ti serve di maria o pogba per battere una sabdoria che complimenti intanto per la partita che ho fatto complimenti a giampaolo che almeno un gioco sta squadra l'ha dato però è una squadra che se guardiamo gli uomini della sabdoria diciamo ma di che cazzo stiamo parlando qua stiamo parlando del nulla no perché se noi abbiamo delle pippe queste c'hanno delle super 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 pippe va bene quindi non ti serve pogba o di maria per battere la sabdoria ma questi erano discorsi che facevamo tutte le settimane l'anno scorso se vi ricordate quando perdevi col verona quando per perdevi col venezia dicevamo le stesse cose non ti serve perché diceva è pirlo c'ha va ronaldo ma non ti serve ronaldo per battere il venezia ti serve magari per battere il bayern monaco per battere l'inter toma ti metto l'inter proprio a dirtela tanto una squadra che c'ha un minimo di gioco riesce a spuntarla su una squadra molto più forte perché la juve anche con gli uomini che c'era ieri senza trovare scuse di infortunati di assenti infortunati poi è colpa di massimiliano a lei anche lì va bene con un minimo di gioco la sabdoria lì da tre gol via basta finita chiuse la storia chiuse la storia invece questo no è sempre la solita minestra è sempre la solita minestra basta basta siete siete ridicoli voi siete il male della juventus io ieri sera ancora sentivo gentere difendere questa merda va bene io ancora ieri sera sentivo difendere questa merda qua non è più possibile questa è una latrina basta ma cosa difendete ma dai ci avevamo metà squadra infortunata ma che cazzo parli contro la sabdoria contro la sabdoria voi fate questi discorsi di merda qua siete vergognosi poi non parliamo delle conferenze stampa non parliamo delle conferenze stampa ieri sera si è incazzato perché un giornalista si è permesso di dire ma guarda che mi retti e cosa sono entrati insomma andato un po la scorsa la partita questo è incazzato perché mi retti ha fatto il passo indietro ma di che cazzo parlate ma di che cazzo parlate ma voi ancora difendete questo allenatore questo non insegna nulla ma che cazzo fate durante la settimana che cazzo fate te ne devi andare brutta merda te ne devi andare oh madonna di cristo ma non è possibile siamo ancora qua a dire le stesse cose te ne devi andare non fa più per te il calcio va a giocare a briscola cazzo è blu si è incazzato con miretti ieri perché faceva i passi indietro ci sono le categorie appunto ci sono le categorie e tu non meriti di stare nella categoria degli allenatori devi sparire devi sparire non sai allenare non sai allenare non sai dare un gioco alla squadra gli spacchi tutti non sai mettere gli uomini in campo non c'è nulla di buono non c'è nulla da salvare tu addirittura dici sei contento perché due partite non ho preso gol contro i cadaveri ma è roba da matti roba questo questo ti fa impazzire questo ti fa impazzire nove milioni agnelli tu mandi via pirlo per prendere un allenatore a dargli nove milioni all'anno e in due in un anno e mezzo che questo è a torino non è stato capace di costruire un'azione da gol bella nitida proprio dice cazzo guarda che cosa hanno studiato in allenamento questi non ce n'è una non ce n'è una o il singolo si inventa qualcosa o è finita vogliamo parlare di centrocampisti giochi che giocano male messi allenati male messi male in campo pensa addirittura ieri ti stava pure andando bene che ha segnato quell'altra merda lì quel capellone di rabbiò ma di che cazzo parlate ma di che parlate basta 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 si mancava io ho visto quando ha fatto il gol rabbiò annullato poi fuorigioco c'era già la gente chiedete scusa chiedete scusa al rabbiò che ha fatto cagare tutta la partita ha buttato dentro una palla a porta vuota gli devo chiedere scusa al rabbiò voi non state bene il cervello voi state gravi voi state gravi voi siete messi male di testa voi siete messi male che c'è gente che che dice la juventus poi che tra l'altro si contraddicono da sole perché difendono allegri poi dicono che la squadra è costruita male che che hanno delle pippe e poi difendono mckenny poi difendono rabbiò e poi difendono vlaovic e poi difendono questo allora è colpa di allegri è colpa di vlaovic è colpa vlaovic non gli arriva un pallone non gli arriva un pallone a sto ragazzo qua vattene vlaovic vattene finché c'è allegri vattene dalla juventus vattene ma di che stiamo parlando alexandro io 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 non ho più parole io non ho più parole non ho più parole per dire quanta merda c'è in questa società qua è il colpevole ve l'ho detto già in tempi non sospetti si chiama massimiliano allegri non me ne frega un cazzo ha voluto pogba diceva pogba è rotto l'ha voluto lui pogba gli hanno preso pogba ha voluto di maria gli hanno preso di maria ha voluto bremer perché del ict non gli piaceva mica tanto lo sapete benissimo lo sapete benissimo che allegri del ict non gli piaceva ha voluto bremer voleva culibali e bremer culibali non potete arrivare è arrivato bremer ha voluto costic adesso gli hanno preso costic adesso gli prenderanno paredes gli prenderanno milic questo è un allenatore che accetta milic questo accetta milic e allora di che cazzo ti lamenti c'hai le palle non ti piacciono i giocatori che che hai preso non t'hanno comprato quello che volevi ti dimetti devi dimetterti devi dimetterti invece noi 9 milioni all'anno ti piacciono poi vai in conferenza stampa vai a a fare il coglione che sei perché vai a fare il coglione che sei va bene vai al circo va bene qua siamo alla juventus non siamo al circo non siamo in mezzo ai pagliacci che tu devi fare la conferenza stampa a far ridere a tua sorella ma che cazzo dici ma che cazzo fai tu guadagni 9 milioni all'anno devi fare una persona seria va bene ci sta la battuta ma non è che e qua è diventato uno show la conferenza stampa è uno show un giornalista se gli fa appena come ieri sera appena la domanda un po di traverso tu attacchi miretti pepe adesso vedrete che miretti non lo fa giocare non lo fa giocare a meno che non è costretto non lo fa giocare capito non lo fa giocare perché si è montato la testa adesso miretti io non ci posso credere io non posso più non posso più accettare che questo allenatore continua a distruggere questa società basta questo va esonerato immediatamente non me ne frega un cazzo questo poi se vince lo scudetto questo è il minimo che deve far vincere lo scudetto il minimo sindaccabile questo deve vincere lo scudetto se no deve essere mandato via calci in culo e senza stipendio vaffanculo ciò che è un'e